oh mamma mia oh mamma mia ci siamo allora intanto scusatemi ci avrò un po di tosse ogni tanto una tossetta ma ciao ragazzi da quanto tempo di nuovo in live vi voglio un sacco di bene me lo fate un nut nut è grandissimo in questa chat in questa chat pinguinesca dai nut nut forza io sono io sono io confido in voi so che voi siete fortissimi siete tutti fortissimi per me ciao mamma mia quanti 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 ciao allora come avete letto in questa live regalerò tre ve le faccio vedere ovviamente non devo far vedere codici se no cavolo me le prendete queste tre carte regalo per prendervi appunto quelli che sono oggettoni oppure le gemme oppure potete spenderli come volete su google play store come funziona allora molto semplice dovete iscrivervi al canale ovviamente poi questi passaggi li andrò a controllare quando sceglierò chi vince chi se lo merita insomma poi dovete commentare col vostro nickname e poi ragazzi soprattutto il vincitore mi devi dire o l'instagram o il facebook o qualche contatto qualche mail eccetera eccetera gli farò le foto della sua carta personalizzata e potrà riscattare il premio ciao ragazzi siete molto belli bellissimi ok stasera stu night stu night stu night faremo delle cose pazze circa più o meno aspettate un attimo vediamo chi di voi è tipo bravi ecco non posso parlare perché tossisco non ce l'ho qui quindi cioè aiutatevi per favore ragazzi lasciate un mi piace per aiutarmi allora allora detto questo il mio pass che ho completato tutto mi rimangono solo qualcosina tra l'altro un'attima cosa mi state scrivendo in tantissimi non riuscirò mai a leggere tutti i messaggi il nick scrivetelo dopo la live oppure scrivetelo ora non so se rimane comunque il nick scrivetelo dopo la live allora intanto che cosa facciamo facciamo riscuotiamo qualche skin casuale dai riscuotiamo qualche skin casuale che devo riscuotere tutto il pass ti prego mi rimane mi manca bella faccia tra le skin rare mi manca bella faccia quindi ragazzi su le mani al cielo per bella faccia dobbiamo beccarcelo che sicuramente lo troveremo circa più o meno oh 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 beh dai bob l'aggiusta tutto benissimo ah no miner maico cioè grazie mi michael miniero bingo looked looked in chat allora secondo me bella faccia lo troveremo bella faccia ragazzi non troverò mai bella faccia Non so, si fa desiderare Mi sa che devo chiamarlo Devo chiamarlo e gli devo chiedere Bella faccia, ti prego Apparimi, mi manchi solo tu Oh, eccolo È passato Oh, Atena, Atena No Maledizione La dea, la mia dea Non c'è Io che la desideravo In tutta questa vita Ora faremo le partite insieme Mi raccomando, riscuoto tutto il pass Cerchiamo di fare velocemente E facciamo queste partite insieme Per vedere quanto siete bravi E se siete capaci Di stare nel team PNG Mi ero spaventato, c'era Bella faccia, però Ricoperto di cacca Scusami, bella faccia Bella faccia, è bella faccia Vabbè dai Ragazzi, basta Non è possibile Non è possibile Mi manca solo lui Allora Dai, riscuotiamo tutte queste skin Pazzesche Così Poi Addirittura Bella faccia Dai, bella faccia Ti prego Mi aiuti Signor Bella faccia In qualche modo Ok, mancano poche skin Da riscattare Certo che Ho più fortuna In quelle Che costano meno E invece no Grandissimo Ehm Ragazzi Attenzione Forse Allora Che avete mangiato Stasera Io ve lo dico Io per fare questa live Per voi ancora Non ho cibato Non ho ancora mangiato C'era un pinguino Un pinguino a caso Mi è capitato un frocione Ah, grazie a tutti Tra l'altro Per gli auguri Di buononomastico Oggi è San Lorenzo Quindi Aguri anche a tutti Lorenzo Che stanno guardando questa live Ma Prepariamoci Ragazzi Ma quanto sono belle Quanto sono belle Cioè Sono Troppo belle Ok Vai Forza Forza Niente L'ape Ehm Non si fa così Non si fa così Guardate Non mi manca Molto Pingu Cioè Ehm Di rare Me ne mancano Due Solo due Ci vuole tanto Non credo che ci vuole tanto Dai Forza 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 Oh Niente Non sarà nessuno Sarà Babbo Natale No Il Cavaliere Un Cavaliere Che a me non mi interessa Però Attenzione Primo abbonamento E se avete Visto E appasso Per la prima volta Un Arlert In cui c'era Il vostro abbonamento Quindi adesso Gli abbonamenti La donazione Tutto quello Che Capiterà Nella live Si vedrà Finalmente Atena Vabbè Mannaggia Atena Mannaggia Mannaggia Atena Grazie comunque Andrei Grazie mille Grazie Andrei Ciao Ti saluto Stiamo finendo ormai I giri Dello Stumblepass Così l'ho Tutto riscosso Oh niente ragazzi Ma io ho tutte le skin Io non posso fare nulla Ecco perché mi metto A regalare Questi Perché ormai Ho tutte le skin Quindi voglio che ci Tentate anche voi Va bene dai Gli ultimi Gli ultimi 2G Mi pare che mi manco Un altro abbonamento Ciao Alessio G Grazie Bella faccia Pinguino Pingu Nut nut In chat Per Pingu Anzi no Pingu Questo è Pingu O Pongo No è Pongo Mi sto confondendo Guarda Quanti giri mi rimangono Pochissimi Credo No Eh vabbè No È partito Goku Ma non c'entra Ma che c'entra Goku Che c'entra Goku Aspetta No Non doveva andare così Ma doveva esserci un Pingu Allora Io la devo togliere Perché mi mettono il copyright Proprio in questo preciso momento Allora Andrei Non c'era bisogno Mi ha fatto partire Goku Che Mi è andato a Super Saiyan Senza motivo Non avevo impostato Allerte così alte Io ti ringrazio Ma non spendere Quei soldi Per donarmeli Non farlo Va bene Utilizzeri per altro Perché comparti le patatine Le gole Adore qualcosa Comunque ti ringrazio Mi era partito Goku Solo che Mi sa che mi mettono il copyright Tanto ringrazio tutti Per il nutrutto In chat Bello Il tizio col cappello D'accordo D'accordo Allora Io direi che Mi manca l'ultimo giro Da riscattare Possiamo iniziare A fare le partite insieme Le partite Sta Sta in bolle Insieme Abbiamo capito Che non riuscirò Mai a trovare Una geisha Non riuscirò mai A trovare Una geisha Calma Con le parole Calma Ok Ho riscattato tutto Tutto il pass Completato Tutto il pass Completato Ora Ci siamo Facciamo queste partite Certo che le facciamo Andiamo in gruppo E creo il gruppo Ragazzi Pronti Partenza Via Creazione del gruppo Ok Cos'è Chi sono questi Aspetta Mi sono ritrovato In un gruppo Di persone Che non conoscevo Vabbè Pronti Via Creazione del gruppo In corso Ci sono Ragazzi Tra l'altro Ho cambiato nome Adesso mi chiamerò Pingu PNG Anche se non si vede Mi pare Ecco Mi chiamo Pingu PNG Adesso Entrerò 20.000 Persona raffica Bravi Team PNG Ragazzi Se vi scrivete PNG Nel nome Siete Degni Di questo nome Sarete dentro Il mio team Perché questo Serve per entrare Nel mio team Chiamarsi Aspetta Aspetta Un attimo Quello cerco PNG E ovviamente Fammi capire Che siete Veramente forti Quindi siamo 32 Pronti Partenza Non ce la si fa Non ce la si fa Ok Primo colore Che non devo toccare Tutti No ok A parte di scherzi Pronti Partenza Via Ok Ci siamo Questo è il livello Di Pingu Circa Cioè A meno che non mi becco Una palla di neve in faccia Vai Pinguini Fatemi vedere Quanto siete fenomenali E vabbè Tutti i trick che conoscono Tutti i trick che conoscono Aiuto Sono passato Sono passato Come ho fatto A passare subito Uè 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 Sono primo Uè Uè Sono primo Salta 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 Vai Pingu Devi saltare ancora di più Ancora di più Pingu Salta Pingu Vai Terzo Non è importanza No Rebecca Ma come Rebecca Ma che cosa succede Ok Chi è arrivato prima di me Che non ho visto Il nome Comunque qualcuno è arrivato Prima di me Un altro abbonato Ragazzi Vi abbonate Grazie Gabris Games Per l'abbonamento Ok Primo match Fatto Siamo riusciti a passare Letteralmente In mezzo a Due Di pilastri Secondo livello Allora Secondo livello Io spero in qualcosa Di tranquillo Qualcosa senza Magari lava Beh Molto tranquillo Mannaggia Se è tranquillo ragazzi Io qua faccio Delle gaffe assurde A volte Ok ci siamo Vinci panda Vinci per noi Non spingetemi Ragazzi Non spingetemi Ok No 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 Così non va Così non va Pingu Dei passare Ok è passato Solo otto Dobbiamo essere Velocissimi Velocissimi Dobbiamo superare Tutti No 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 pingu Vabbè pingu No dai Pingu mi ha dato un pugno No Non è giusto Si sono qualificati E bravi E bravi Lo vediamo Questo ultimo round Per vedere Per vedere Chi vince Chi vincerà Vediamo Sono curioso Di vedere Chi vince Tanto che L'ultimo round Vediamo Chi vince Il mio errore È stato Andare a fare Il trick Non sono riuscito A farlo Mannaggia Effettivamente Potevo fare un altro Di più di trick Jungle roll Chi vincerà Sarai un degno PNG Io secondo me Sì ragazzi Secondo me È un degno PNG Allora vediamo Chi sarà Abbiamo il capitano E il capitano È Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo È davanti Attenzione Parte un puglio Perché ovviamente Stumbleguys No è in realtà Primo È caduto È caduto Il capitano Ce la fa Il capitano Non esiste Ci abbiamo SR Lyon Attenzione Vinci PNG Sta vincendo Vinci PNG Vinci No vinci Vinci Mamma mia Mamma mia Vinci è primo Vinci se ne va Grandissimo Vinci Mamma mia Dovrei fare Il commentato L'Istambolo Vinci ha vinto Lui sì Che è un vero PNG Ma ovviamente Bravi tutti gli altri Ragazzi Tutti bravissimi Bravo È partito Che cosa è partito Marti Ha donato Un euro Grazie Marti Meno male Che ho messo Gli alert Così non me li salto Allora Vinci PNG È già un PNG Quindi ottimo Ottimo Vinci PNG Ovviamente Diciamo pure M Capitan Pure tu Sei un bel capitano Sei arrivato Bene Benissimo Pasticcio Mac Come pasticcio Mac Ok Cambiamo gruppo Creiamo un nuovo gruppo Altro giro Altra corsa Altre persone Attenzione Mi raccomando Vi ricordo Ovviamente Che se volete Partecipare Per vincere Uno di questi Cosi Ok ragazzi Non posso far entrare Sempre le stesse persone Vinci Panda Ha vinto Il vero PNG Purtroppo Ti devo Mettere fuori Un attimo Per far entrare Nuove persone Ok Anche tu Alex Così facciamo Partecipare Più persone Possibili Vabbè Tutti i PNG Si chiamano Grandissimi Ma vi voglio Un sacco Bene Siete tutti De proagini Ok Ci siamo Possiamo fare Re dei gatti Io amo i gatti D'accordo Giochiamo Fatemi vedere La vostra potenza Scrivete tutti Nutte Nutte Attenzione No vabbè Dai Questo livello Allora L'importante È farcela Credo No ma parto Per ultimo Salta Pingu Salta Che non farti Beccare da qualcosa Alla fine No No Dai Mi poteva andare Molto più peggio E infatti è andato Peggissimo No non mi so qualificato Non ci voglio credere Non ci voglio credere Non mi so qualificato Per questa cosa Dai Ok Ce la posso Ancora fare Pantofole Pantofole Vieni qua Ok Non facciamo il trick Facciamo un altro Tipo di trick Questo Bellissimo Posto trick Ma hanno messo Allora Ecco cosa succede A perdere Una volta Intanto Tutti i pinguini Leggendari Qua hanno fatto I leggendarissimi Mi piace commentare Le partite Commentiamo Commentiamo Vediamo quello che succede Comunque il trick Mi è riuscito Benissimo Il peggio Il miglior trick Della vita Allora Vediamo questi Pro gamer Eh vabbè ragazzi Queste sono Una partita di calcio Io devo commentare Allora Abbiamo Il blu Contro I Oro Ci abbiamo Pumba Pumba Vuole fare Pumba Aspetta No aspetta Attenzione Pingu di testa Grandissimo Pingu Allora Rete ninja Cerca di andare Alla riscossa Ma no Attenzione Para Para Parate Io non so Per chi ti fare Ragazzi Per chi ti fate Scrivetelo sotto Nei commenti Ci abbiamo un sacco Di palle Qui sono troppe palle Dai ragazzi Buttate la palla in rete Vai Tom Tom Tu sei proprio matto Aspetta Ma l'ha parata Non ho capito Ah quella è la porta Versaia Tom 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 In aria Niente Niente È veramente troppo in aria Era Il pallone pure Vuole un aria Siamo 1 a 0 Per i I blu Allora cambiamo Ci abbiamo Doggo Il signor Doggo Saluti a Marcello Doggo Niente Pumba Non ho capito che cosa fa Pumba Svegliati Prendi un pallone Vai Pumba Vai Così Grandissimo Doggo Ok cambiamo Cambiamo GG Veramente Abbiamo Jerry Scott Jerry Scott Ha una palla che scotta Attenzione Jerry Scott Deve cercare di pararsi Da Leo Da Leo Scusa Dal Panda Ce la fa Ce la fa La mette in carambola Più o meno No no Jerry Jerry che parata Jerry Mamma mia Quella palla scottava così tanto Ma l'ha tolta Con una maestria assurda Intanto abbiamo Un sacco di pinguini in porta E' bellissimo Commentare le partite Vai 7 secondi 6 5 4 3 2 1 Pingu Complimenti Blu Troppo bello Ok Ci abbiamo un sacco di pinguini in finale Ragazzi Siete fantastici Dai Quanto è bello commentare le partite Dai E' bello E' bello commentare le partite Spero che vinca la squadra Gialla Mi dispiace Hanno perso Allora Space Race Vediamo se uno di voi conosce Il trick Che non è questo C'è un altro trick Ad un certo punto Ci abbiamo PNG No PNG Master Non sbaglia Con PNG Shadow Ragazzi Ma ragazzi Che team Allora Il Il pomodoro Cerca di fare il trick Non lo fa Non lo fa Perché se ne va il pinguino Se ne va il pinguino Dov'è? Shadow Sta veramente Mettendo all'oscuro tutti Sta per arrivare primo Vai pinguino No pinguino Troppo Mamma mia E' troppo bravo sto pinguino Ragazzi siete troppo bravi Come faccio a vincere contro di voi Siete troppo forti Qua Molti si stanno Shadow Shadow ce la fa? C'è qualcuno attorno a lui? Vince lui? Bravo C'è Sono fiero di voi Stanno vincendo Solo pinguini Solo pinguini Bravi tutti Ok Passiamo la palla Nuova partita Allora creiamo un nuovo gruppo Ovviamente Grandissimo il nostro Shadow Oii No ragazzi è crashato Crashato Stambul guys È crashato Stambul guys Ok nuovo gruppo No il tornei No aspetta Non è il momento No no shoppare Non è il momento Poi shoppiamo Gruppo crea Ok mi raccomando Commentate in tantissimi Allora Ma soprattutto Mi dite una cosa fondamentale Una cosa che Mi piace 24 0 0 C'è no aspetta Vinci panda Scusami Vinci Hai già vinto Hai vinto troppo Fraciccio Vai fra Tommatto Pure No vabbè Tommatto ti lascio Purtroppo devo togliere scp Devo togliere anche Qualcun altro Che già c'era Tipo ser leone Ser leone Tu sei un grandissimo Pure doggo Ha fatto una bella partita Rebecca Tolgo pure te Scusatemi ovviamente La persona che tolgo Anche te PNG Ma devo cercare Di dare la possibilità Di giocare a tutti Io voglio a tutti bene Voglio un sacco bene Se no io Non farei di ste cose Pronti Via Giochiamo Tutti insieme Pronti Partenza Vai Allora primo livello Dai dai Prepariamoci il pugno Perché Pingu Deve dare quattro pugni A tutti Prepariamoci il pugno Quanti pinguini Tutte le schede pinguine Non c'hanno Lobby di sole pinguini Ma ragazzi Ma quello è junior Ma non è Quello è Aiuto Sono tutti sopra di voi No aspetta Ok il pugno Diciamo che Non ha fatto granché Anzi mi ha fatto perdere Il pugno Allora ok Saliamo Senza farci spingere Aiuto Ragazzi non mi date pugni Ragazzi non mi date pugni Ragazzi non mi date pugni Ok Ok Allora passo di qui Per evitare Di beccarmi qualcosa in faccia Vai ce l'abbiamo Cerchiamo di arrivare Siamo arrivati Grandissimi Si sono qualificati Tutti e solo Pinguini Quello Vabbè ragazzi Quanti pinguini Ma Ma ragazzi Questa è una cosa pazzesca Comunque siete troppo forti Mi state dando delle mazzate In questo Pronti No Ok Chi di voi Sa fare trick In questa mappa Spero tanti Pronti Via Allora Non era mia intenzione Fare così schifo Perché ho fatto così schifo Non era mia intenzione No ragazzi Ho perso Ho perso Non ci arrivo Non ci arrivo Non ci arrivo Perché Non ci arrivo Perché siete più forti di me Posso provarci con i trick Ma non ce la faccio Non ce la faccio Perché voi trick Li conoscete meglio di me In questa No ragazzi Fatto schifissimo Ma vabbè Può capitare Un momento Di lucidità Persa Circa Però ancora Non è arrivato nessuno Spero tanto Di farcela No niente ragazzi La gente è arrivata No no La gente ancora non è arrivata No è arrivata Va bene Vediamo Vediamo Chi Chi vincerà Tra questi pinguini Cavolo Ho fatto Schifissimo Non ha importanza Non ha importanza Può capitare Questo è difficile Questo è difficile Allora Non so come chiamarvi Ragazzi Siete tutti Sono tutti i pinguini A parte Matti Pro Ok Ci abbiamo Vicky Vicky che cerca di superare Tutti gli altri pinguini Vicky Cerca Attenzione Ma qua che cosa sta succedendo Fallo Fallo Questo è un fallo E' Manuela 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 Si trova in avanti Però attenzione Ci sono i pinguini pro Ci sono i pinguini pro C'è Vic davanti Dov'è Vic Aspetta che l'ho saltato Vic Eccolo Vic Eccolo Vic Però attenzione C'ha tutte le costole Niente Ce la fa Vince Perché ha pure il calcio Quindi bravo Vic Però Ho capito che si è forzuto E' tutto Però non sei team PNG Io volevo che vincevo PNG Ma se vuoi essere PNG Puoi diventarlo Ecco per esempio Vic Se vuoi cambiarti il nome In Vic PNG Puoi anche farlo Sei stato molto bravo Cavolo Ragazzi Siete eccezionali Mi sei di nuovo Buggato Il mio carissimo Stumble guys Ogni volta si Bugga Con le connessioni Allora Voglio fare Dei Cinque giri Facciamo E riniziamo Con le partite Facciamo cinque giri Della ruota della fortuna Cinque giri Per trovare Atena Che è l'unica skin Epica Che mi manca Questa Sarà una bella cosa Buonasera a tutti Buon Lorenzo A tutti Ok Scherzo Ormai le epiche Le ho tutte Mi manca solo Mi manca solo Una Bellissima tena Nelle mie tasche Che purtroppo Non incontrerò mai Oh Una skin Una Una Niente Il panda rosso Ragazzi I panda rosso Sono tipo Ultra bellissimi Scheletrino verde Magia mai Ok Questi qua Le ho fatti Facciamo A sto punto Cinque giri Di Questa Ok Con 285 gemme E Ragazzi Comunque tra l'altro Stavo pensando Che Con questi Vi potete comprare Anche lo Steinball pass Ovviamente Ragazzi Seguite Attenzione Disco den Uno nuovo Seguite le istruzioni E Ce l'ho Bella faccia Seguite le istruzioni Per poter vincere Uno di questi Mi raccomando Iscrivetevi Commentate Col vostro Nickname Poi ovviamente Il vincitore Lo contatterò Sotto Il commento Che Scriverà E gli manderò La foto Della carta Dal valore Di 15 Saranno Tre I vincitori Quindi ragazzi Commentate Tantissimi Che cos'è Questa Offerta rara Un euro Possiamo Continuare Continuiamo Continuiamo Con Le partite O facciamo Altri Così 5 giri Di ruota Della fortuna Schivetelo Ragazzi Schivetelo E Schivete Anche Nut Nut Così Per farmi Capire Che ci siete Siete Tipo Tantissimi Siete Tantissimi Ok Nut Nut Sì Che cosa Stanno Dicendo Attenzione Giri Giri Partite Sì Sì Partite Giri 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 Ok Allora Facciamo Partite Ok Facciamo Partite E poi Altri giri Gruppo Crea Cavolo Siete così Tanti Veramente Siete dei Pro Assurdi Partita Di Nokia Queste Partite Sono Peggio Di Nokia Sono Fortissime Eh ragazzi Ma no Ragazzi Non vi Dovete Collegare Sempre Gli Stessi Dobbiamo Dare La Velocità C'è L'opportunità A tutti Di Collegarsi Ok L'opportunità A tutti Non lo Faccio Per Cattiveria Io anzi Vi voglio Un sacco Bene Per questo Voglio Far Giocare Voglio Far Giocare Più Gente Possibile E Quindi Anche Claudia Altri Che Ho Visto Credo Che Sono Tutte Persone Che Non C'erano A parte PNG Master Leo C'era Pure Ok Pure Emanue Scusate Ovviamente Ok Possiamo Fare Credo Che Ci siano Tutte Persone Nuove Potrebbe Capitarsi Che Mi Capita Qualche Persona Che Già C'era Iniziamo Voglio Fare Quelle A Squadre Con Voi Secondo Me Quelle A Squadre C'è Do Svegli Cassi Delle Risate Ti Prego Un Livello A Squadre Uno Ti Prego Oh Time School Con Con Calma Con Calma Ce L'abbiamo Il Pugno Ce L'abbiamo Il Pugno Allora Con Molta Calma Eh Ragazzi Non mi fate Cadere Ok No Ragazzi Siete Molto In Avanti Quindi Devo Tipo Farcele In Qualche Modo Il Problema Che Qua Problema Di Cadere Qua Si Cade Un Problema No Verde No No Non ci Credo No Non posso Recuperare No Sono caduto All'ultimo Ok Rifaccio Rifaccio Cavolo Mi avete Spinto Tantissimo Vabbè Può Capitare È una Cosa Che Capita Tutti Dopo 20.000 Partite Oh Che Gruppo Si è Creato Ehi Signori Signori Niente Se di nuovo Buggato Stumble Guys Il gioco Buggato Però Kitty Kata Games Ti prego Sbugga Tutto Sbugga Crea Ora vi farà Entrare Ora vi farà Entrare Ci siamo Vediamo Oh Il primo Il primo a collegarsi Sempre vince Ragazzi Dobbiamo fare Entrare Tutti Vinci Ecco che sono partiti Ok 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 Aspettate Un attimo E qua La gente Ovviamente Ok Ok Andiamo 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 Forza Ce la possiamo fare Però stavolta Non spingete Con calma Si gioca Con calma Voglio fare livelli Insieme Voglio fare livelli Tipo squadre Ok Qua con calma Con calma Ci possiamo qualificare Sono Sono Curioso Di sapere Come Ehi C'è un pinguino Davanti a me Non mi è partito Non mi è partito No ragazzi Non ci credo No ragazzi Mi devo qualificare Qua No 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 Non va bene Non va bene Ragazzi Non va bene Non va bene Non mi è partita All'inizio Come ho fatto a non partire All'inizio Eh Ho perso Troppo tempo Ho perso Troppo tempo E questa È quello che Pagherò Per perdere Troppo tempo Tra gli ultimi Qualificati Ce l'ho fatta Wow Ok Ah Nonostante il tempo Che ho perso All'inizio Perché non mi è andato Avanti il personaggio Ci siamo qualificati No Piccolo nugget Qualifica Bravo Piccolo nugget Mi piace Nugget Mamma mia Mi sta venendo Troppo fame Ho troppo fame Pronti Partenza Secondo livello A squadre Please Ti voglio bene Stumble guys A squadre Adesso ci divertiamo Perché sarà una cosa Rocambolesca Vai pingue Vai squadrone Cerchiamo di vivere tutti No aspettate un attimo No non abbraccio Allora con calma Cerchiamo di conquistare Volete un po' di bombe Ve le do io le bombe No ragazzi con calma Ecco così si gioca Fate esplodere tutto Non dobbiamo far perdere Ecco non dobbiamo far vincere gli avversari E noi perdiamo E' una cosa incredibile Quello là mi ha rubato La zona blu E' una cosa pazzesca Una cosa pazzesca sto gioco Cercate di conquistare Più zone possibili Vai Vai giù Forza Ale vai giù E giù è Ale Giù è Ale Giù è Ale Giù è Ale Non mi scrivi sdeperate ragazzi Conquistiamo le bandiere Forza Ok ce l'abbiamo E mia Conquistiamo pure quella Sbum Forza forza Vai No 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 Recupera 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 Si grandissimi Ok io rubo la bandiera Io rubo la bandiera 5 a 4 5 a 4 44 secondi Questa è una sfida Questa è una sfida Grandissima No 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 Non ti azzardare Ragazzi non ti azzardare Non ti azzardare Mi vuole buttare Ah infatti Mi ha buttato No Vabbè ma che sfortuna ci vuole Non fatevi prendere Non fatevi prendere Ok Ok No no ragazzi Non voglio perdere così Non voglio perdere così Quattura sta bandiera No 5 a 5 5 a 4 13 secondi Forza No non ti azzardare Non ti azzardare Non ti azzardare Non ti azzardare 5 a 5 5 a 5 Via Giù Giù Cattura sta bandiera Catturala Si Mamma mia Mamma mia Che calma Mister Borraccia Si sono qualificati Tutti i pinguini Ragazzi Troppo Troppo bravi Siete tutti Molto bravi Bravissimi Cuoricini a tutti Ok Laser Tracer Questa qua È difficile Perché Se c'è qualcuno Che sa utilizzare Il pugno Per me È la fine Se c'è qualcuno Che sa utilizzare Il pugno Per me È la fine Perché mi stream sniperano Perché mi vogliono Far perdere Ah ma che ridi Non ridere Non è il momento Di ridere E infatti C'è qualcuno Col pugno No scappa 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 No no Te l'ho detto Ecco così Si fa Attenzione Qua Usa le pugne Attenzione No no Sono un imbecille Sono un imbecille Fortissimo No Non ci voglio credere Me la sono Mangiata Tantissimo Questa Era fattibile No Perché c'è Leo Guarda che fa Leo L'errore è stato mio E l'ho E l'ho pagata cara Però intanto qua Ci sono un sacco di Un sacco di pinguini Che Allora Secondo me vince il clown Non so perché C'ho questa strana sensazione Che vince il clown O Leo O Leo Il clown Eh il clown In difficoltà Vabbè ma le ha toccate tutte Com'è fatto a sopravvivere il clown Scusa ma le ha toccate tutte Com'è Che pugno Che gli ha dato Un pugno pazzesco No ragazzi Ma usa le hack Per me Secondo me Mister Borraccia usa le hack Ha vinto Mister Borraccia Ho i dubbi Ho i dubbi su Mister Borraccia Non l'abbiamo visto giocare Avevo visto che nonostante Si sia stuffato Ha toccato diverse volte I laser Ma Non gli hanno fatto niente Voi pensate che Mister Borraccia Abbia utilizzato le hack Voi che avete visto La live Voi che avete visto la live Ora Pensate che abbia usato Qualche hack Perché Non Anche se prendeva I laser Non Non gli è successo niente Che cosa pensate Ditemi No Si Si No Si 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 No Allora Mi viene un grande Dubbio Perché a me Pareva Che Avesse toccato I laser Ma Gli hacker Di solito non fanno Così Gli hacker Sono Diversi Però Non si sa Non si sa Diamo il beneficio Del dubbio Diamo Cavolo Ho perso la voce Comunque grazie per la donazione Diamo il beneficio Del dubbio E' finita la tosse E continuiamo Anzi Continuiamo Gruppo Crea Hack Alcuni dicono Hack Alcuni dicono Hack Si si No 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 Vediamo Secondo me si Comunque Credo Sia Fake Ragazzi Credo sia fake Credo Poi non lo so Allora Aspetta che devo togliere Vinci Ehm Devo togliere Yoshi Ci sono un sacco di persone Che già hanno giocato PNG Serbe Grandissimi ragazzi Proprio PNG Così Ma Il problema Che non so Se sei veramente tu Se sei tu Ciao Anzi Grazie Non c'è bisogno Che doni Ma Non 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 riesco A controllare Non mi fa controllare Comunque grazie Ma non c'è bisogno Allora PNG Shadow Ehm Già è giocato Filippo Gamer Franci Pinguist Pinguist Leo Credo che No Leo non ha partecipato Ha partecipato un altro Leo Ok ci siamo tutti Pronti Via Ci proviamo ragazzi Ci proviamo Cavolo Jungle roll Uno dei miei livelli Preferiti L'unico livello Che Ok Allora Mi sa che devo cliccare Due volte in avanti Se vi chiedete Perché Grazie Sabrina Ok Non pensiamo alla chat Non è il momento Ragazzi Vi voglio bene Però ci dobbiamo qualificare Che qua io non so come è fatto A fare questo trick Sinceramente Io cerco di qualificarmi In modo normale Ok Mi sono tuffato E che pugni No 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 Ragazzi Sono volati dei pugni Incredibile Che qua la gente Si qualifica Io ovviamente Mi tuffo Per qualificarmi Ragazzi Mi tuffo Alla grande Mi tuffo tantissimo Dovevo recuperare posizioni Non ho sti pugni Ah Stambo Guess E pay to win E pay to win No Veramente Pay to win Certe volte Mi sono deconcentrato Comunque Mi sono deconcentrato Tantissimo Crea Crea Rifacciamo Rifacciamo E bug Cosa è bug Che Quello di prima Tutto bug No io Ok Aspetta un attimo Ragazzi ma Io cerco di far entrare Comunque Gente diversa Attenzione Non ho capito Mi arrivano le donazioni Ma non spuntano Cioè Appaiono Ma non spuntano Attività degli spettatori Adriana Sgaramella Grazie Adriana E poi E poi Non lo so Non Mi Mi sarà Buggata La pagina Mi si sarà Buggata La pagina No Non mi appaiono I spettatori Cioè L'attività Degli spettatori Ok Proviamoci Attenzione Attenzione Forza PNG Sì Forza PNG Vi ricordo Comunque Sempre Di partecipare Ragazzi Tantissimo Mi raccomando Lasciate like Iscrivetevi Che poi Vi regalo Queste Per fare Un regalo A parte mia Certo Oggi È San Lorenzo E io faccio Regale Grazie Anastasia Questo l'ho visto Che è passato Dovremmo essere questi Pronti Via Primo livello Dai Un livello Semplice Molto Semplicissimo Cioè Uno dei più semplici Che se ti becchi una cosa in testa Perdi Pietosamente Tutte le schede pinguine E vai Ok Io cerco di passare Ragazzi mi state facendo volare Ragazzi mi fate volare Sono partiti Calci Pugni Per andare avanti È partita una donazione Che non ho visto Forse ce la dobbiamo fare Ok Ce la facciamo Ce la facciamo Con calma Con calma Allora Allora mi qualifico Normale Normale Mi qualifico Ai 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 Mi sono arrivato Sono arrivato Non importa Vai Qualificazione Qualificazione Ci siamo Ci siamo Salvo Sei salvo Bravo Si è salvato Ho seriamente paura Seriamente paura Della lobby che sto vedendo E' tipo pienissima Poi facciamo 5 giri Della ruota alla fortuna che voglio trovare Gli ultimi skin che mi rimangono Si Allora stavolta Pingu giocherà Grandissimo Facciamo un nutte nutte generale Ok dobbiamo vincere Pingu vede la palla Inizia colpo di testa Vai Cristiano Pingualdo Vai forza forza Grandissimo Vede palla al centro Palla al centro l'avete Tira No ma le daccia la miseria E lo so Pingu lo so Attenzione vedo il pallone Ok lo portano avanti Ma gli altri pinguini Attenzione In mezzo in mezzo Ragazzi dai Non si fa così Dovete pure parare Pinguini Dovete pure parare Ecco ragazzi Qua mandano i palloni in avanti C'è Pingu C'è Pingu Che blocca C'è Pingu Da solo In avanti Mamma mia Io ho attaccato E vabbè ma questi Due palli Due cartellini rosse Ma come si gioca ragazzi Allora i blu C'è Pingu C'è Pingu Pingu in mezzo Niente Vai uno Uno grandissimo Ok Ehi ragazzi Senti Faccio io Fallora Faccio io Fallora Vedi qua Ok così non vale Così non vale Sono troppe Non riesco a vedere Ah Para Pingu la para No ragazzi Non me la portate in avanti Dai Pingu No 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 Toglietele Sono troppe Ok Ok toglietele Toglietele Grandissimo Uno a uno No No Grandi C'è C'è il portiere C'è Ragazzi è combattutissimo Questo è tempo supplementare Abbiamo perso Abbiamo perso Parata 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 Pingu se ne va Pingu se ne va Pingu se ne va Scrive anche a tutti Pingu se ne va Colpo di testa E vabbè quanti falli Quanti falli Mi state facendo Ragazzi dovete mandarle in avanti Sta palla In avanti Ora o mai più Ora o mai più Pingu tira Il tiro Il tiro Il tiro No ragazzi Non è impossibile Il tiro Dai Quanto è difficile Ah ragazzi Questa Questa è difficile Un gol dobbiamo fare Non fatevi Incastrare Non fatevi Incastrare Ragazzi però Qualcuno in avanti Ci deve andare Pallonetto Si sub Dribbla uno Cerca di dribbare Pure l'altro Tutti e due in avanti Sono i palloni Ce l'abbiamo Di testa Niente Niente È difficilissima Sta partita Pingu si libera Cerca di fare Il dribbling La palla va in mezzo In mezzo La palla La palla Non va proprio In mezzo Uno Uno Paratela Ragazzi Non ho mai visto Una partita di calcio Così combattuta Spingetela Colpo di destra Ragazzi Mettetela al centro No no Non ci siamo No 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 È la partita Più combattuta Che abbia mai visto È stata Bellissima Purtroppo Un pallone Volato Io ci ho tentato In tutti i modi Ma vediamo Chi vincerà Questa battaglia Porta Proteggi la porta Ok Chissà che Vi vincerà Secondo me O salvo O atena Attenzione Qua La vedo Molto strana Cioè abbiamo atena Che vuole in avanti Ma ci sono i pinguini Ancora più avanti Attenzione C'è uno che conosce Trick E li fa Edoardo Li fa Edoardo Però ci abbiamo dietro uno Un altro che conosce pure Trick Però Edoardo è primo Edoardo vince Edoardo ha vinto Bravissimo Edoardo Grandissimo Comunque Vi è piaciuta Cioè Bravo Break e dance Pure io la so fare La break e dance Ti faccio vedere Aspetta Comunque È stata Troppo difficile Quella partita di calcio Ma troppo Ok Facciamo Cinque giri Di ruota Della fortuna Di Istanbul Anche perché Si sta facendo Tardi Allora Negozio Giri Vai con sé Ciri Allora Vi ricordo Che Qua ci sono Delle card Che ho preso Appositamente Per voi Intanto ho trovato Luis Ballerino Sto pure Morendo di fame Che non ho mangiato Sto schiattando Di fame Per partecipare Per partecipare Avete tutte le istruzioni Qui sotto Bellissime In basso Non riesco Non riesco a trovare Non riesco a trovare Le ultime skin Ve le rendete conto Delle skin Semplicissime Blue Ode Dai dai Io sono convinto Ragazzi Bella faccia Bella faccia Guardate Gli ultimi Facciamo dieci Dai Dieci Intanto saluto Qualcuno di voi Ciao Claudia Padalino Ciao Ciao Lorenzo Blandino Auguri Ciao anche Un clown Ho trovato Il clown Il mio clown Mi mancava Il clown E l'ho trovato O la voce Ho trovato No non mi ricordo Forse il mio primo clown E vai Ma non sono Delle carte Ragazzi Queste non sono Delle carte Pokemon Sono le carte Di Google Play Per Appunto Prendervi Le gemme Per comprarvi Il pass Comprarvi I gettoni Per le skin Wow ragazzi Comunque Incredibile Ho trovato il clown Allora intanto saluto Anche Simona Cosma Ciao Simona Qua intanto gira Ciao Marco Ciao anche a Fiorina Niente Mi sa Che le skin Più belle Non le troverò Mai Cioè in realtà Le più belle Le ho Già Le più belle Già le ho Diamo Altri sette giri Intanto saluto Metto questi giri Sotto fondo Mentre saluto Ciao contenta faccia E beh Bella faccia Contenta faccia Noi cerchiamo proprio quello Ciao Davy J 2004 A pizza A pizza A pizza A pizza Capo un marone In goppa Capo un marone In goppa Ancora la pizza Una doppia Una doppia pizza Ho un po' di tosse Scusate Ho trovato un Cowboy Clint Eastwood Ma perché mi capivano tutte quelle che già ho E vabbè quanti mi saluti Diventate lui Fatemi la cresta Ciao Luca De Nicola Ciao Alice Faraone Ciao Leandro Ciao Leonardo Solimando Ciao Vincenzo Caizzo Ovviamente è il cognome Perché magari la gente avrà sentito altre parole Ma è il cognome Un altro chef Questa è lo chef Jamie Questa è a pizza Però quella di Briatore Che costa 60 euro E beh sto trovando tutte quelle skin Che mi mancavano delle semplici A parte Roberto Carlos Saluto anche a William Paradino Ancora sti cowboy Io ho capito Questi cow Aspetta Sono io Mr. Borraccia Va bene Non ti preoccupare Mr. Borraccia Era un mio dubbio Dai Quella skin mi mancava Quella skin mi mancava Ok facciamo 5 giri di questa Giusto per Iniziamo di nuovo con le partite Oh Cioè tra poco prendevo la speciale Attenzione Nuovo abbonamento Ciao James Grazie Chiamate un dottore Mi sta venendo veramente Chiamate un dottore Chiamate un dottore Mi prego un'ambulanza Niente Mamma mia quante persone Quanti commenti Belle belle queste skin Rifacciamo Perché io ce l'ho proprio qui Io Io no Secondo me lo troverò in un video Quella skin Secondo me la troverò in un video Mi sono convinto E invece E invece Non la troverò mai Neanche nei video Allora il mio obiettivo è Atena Come tutti ormai sanno Come tutti ormai mi conoscono Che il mio obiettivo è quello E invece niente Atena era lì Però non l'ho vista Vai che ora giochiamo Forza Questi ultimi giri Per trovare Una speciale stava capitando Che miseria Ok Allora Facciamo l'ultima partita ragazzi Perché si sta facendo tardi Ultime partite Pronti partenza Via Ovviamente Se volete far parte Del team Dei png Potete farlo benissimo Basta che vi scrivete Png nel nome E siete benvenuti Nel Nel mio grandissimo team Il team dei pinguini Il team dei polaretti Il team è fresco Il team è più fresco Dell'estate Più ghiacciolo Dell'estate Ed ecco qua Che il gruppo Mi si è crashato Di uno stumble Vai crea 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 gruppo Crea Grazie Jordan Vicini Sei mio vicino Di casa No Scusate La battuta Vi faccio Tutti quelli Che volete Ragazzi Voglio un sacco Di bene Vi ringrazio Per tutti I abbonamenti Per tutte le donazioni Che mi fate Vi dovrei ringraziare A tutti Ragazzi Entrano Purtroppo Alcuni sono sempre Gli stessi Eh sì Purtroppo Perché si preparano Sono lì Appostati Ed entrano Di soppiatto Sto Togliendo Quelli che Già hanno fatto Qualche partita Vinci tu Sei stato un grande Grazie Grazie Lucarelli Ciao Grazie Grazie per la donazione Pa 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 Eh Dovremmo essere Gente nuova Questa è tutta Gente Cactus Attenzione C'è un cactus Questo È pericoloso Perché cactus Pungono Che cactus Fanno C'è I cactus Pungono Questo potrebbe Essere un problema Ma Oh Finalmente Una mappa Che non mi è capitata Da un po' Cerchiamo di fare il trick No Perché quel martello È troppo veloce Vai salta Salta con calma Salta con calma Salta ancora Il trick che non lo faccio Preferisco passare E vivere Grazie Preferisco vivere Attenzione C'è il campiones Che passa Oh attenzione Che è successo Che è successo Non ci ho capito Niente C'è seriamente C'è Seriamente Questa è la cosa Più brutta Che abbia mai visto In vita mia Cerco di ricoperare Qualche posizione Ma non ce la faccio Se mi Cerco di ricoperare Qualche posizione Non ce la faccio Non ci credo Non ci credo Scusate Devo rifare Non ci voglio Credere E capita 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 No 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 Che gioco Da solo Che vi aspetto Vi aspetto Ma poi Da dove mi arriva Vince Io ti voglio bene LOL E lo vince Io ti voglio Tanto bene Ma già hai giocato No Secondo me Secondo me Ve lo fate apposta Voi siete pure Dei burloni Come me No go No go Attenzione Purtroppo go Mi spiace Non volevo go No vince Sempre vince E' una cosa E' una cosa incredibile Allora facciamo un applauso A Vinci Dai Facciamo un applauso A Vinci Ok vai 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 Gente nuova Grazie Marisa Per la donazione Non distraiamoci Puntiamo All'obiettivo Senza Beccare le palle In faccia Questa sarà bella Questa sarà bellissima Questa sarà molto bella Ok Ok Ragazzi il problema è che siamo tantissimi qua Il problema è che siamo veramente tanti Eh ho perso un po' di tempo lì Chissà se riuscirò a qualificarmi Chissà se riuscirò a qualificarmi A meno che non mi facciano cadere Uè Ok Ci siamo Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta No Che Chi mi ha tirato quel calcio volante Io dicevo Ce l'abbiamo fatta Pum Ho capito In questo Pinguino ami Ciao pinguino ami Ti ami anch'io È stato È stato difficile Dai un altro livello della squadra Che sono i più divertenti Dai questa è una live Per divertirci Non importa Vincere Queste sono live Volevo fare con voi Per Poi è sicuro che non passo Perché gli spuntoni Veramente Con calma Sapevo io Allora io seguo i miei carissimi pinguini No Non ho fatto il doppio salto No dai Ragazzi Non spi Io non cammino più eh No io non cammino più Mi avete fatto cadere 20.000 volte Io vi voglio bene Ma mi avete fatto cadere Tipo un centinaio di volte Potevo superarlo E invece no No Non lo supero Non lo supero Sono agli altri arrivati Dai che ce la faccio L'ultimo posto L'ultimo posto No Io potevo dare un pugno Ma era troppo distante Beh oh Incredibile Ok vediamo L'Avaland Sarà una bella cosa Sarà una bella cosa Vediamo Chi sarà il migliore Vedo Forza PNC Ok Secondo me c'è qua Qualcuno che tirerà un pugno Da qualcosa Secondo me ci sarà Qualcuno che tirerà un pugno Intanto vedo De Bedale Che è veramente forte Lui si Attenzione Ma che Ma che cosa ha fatto C'è si è auto ucciso Si è auto ucciso Vedete Bedale Troppo forte The Bedale È un Bad Guys Ma ragazzi Mi avete visto Che ha fatto Ha fatto Una scivolata Debolata da solo No The Bedale Ha perso No no È ancora vivo Incredibile Ancora vivo Se io tipo Per Bedale Sto vedendo pure Gli altri giocare Lui Io non l'ho visto A lui neanche usare Una volta L'emote Del Del pugno No De Bedale Niente ragazzi Mi spiace Chissà che vincerà Forse Franci Io Franci Franci purtroppo L'ho visto dare pugni Quindi credo che vincerà lui Infatti Vincerà lui Ragazzi L'Avaland Purtroppo è uno di quelli belli Molto Pay to win Perché Chi c'è il pugno Vince In questo caso Starà vincendo sicuro Franci Perché lui si sta caricando il pugno E ha vinto A meno che non dà un pugno Attenzione Grazie C'è stata una donazione Qualcosa Aspetta Mi sa che forse a fine partita Ragazzi Che match Tra Franci Franci e c'è 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 di dolo Forse Franci Non ha Ha vinto Franci Però non ha usato il pugno Alla fine Alla fine Quindi ottimo 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 Poi lo utilizzo io E fa tutto bene Ragazzi Comunque Anche se utilizzate pugni Lo utilizzo anch'io È normale Cioè Li hanno messi nel gioco Bisogna utilizzarli No Intanto Non ho capito Cosa è successo Intanto è partito Un abbonamento Grazie Jordan Leonardo Lucarelli Ciao Grazie Ancora c'è stata Una donazione E ragazzi Sì Sono partiti Con le donazioni Ok Allora Facciamo entrare Nuova gente Che prima Non c'era Quindi Adesso Stare entrando Nuova gente Ed io direi di fare Tipo Pasqua Pasqua Vieni qua Pasqua Dai che giochiamo Ci divertiamo Scleriamo Quindi Se vuoi Entrare nel mio team Per me Puoi entrarci Io ti accoglierò Accoglierò Insomma In qualsiasi modo A braccia aperte Non ho Come non è kart Ecco che volo Ecco che volo Ma non ha importanza Non ha importanza Perché ci siamo Allora L'importante È non beccare Niente ragazzi Io di solito Qua non ne becco Ma purtroppo Le becco E infatti Non ne ho beccate Non ne ho beccate Allora Cerchiamo di passare Di qui Per non fare il trick Che se sono Affortunato Non mi becco Niente No ragazzi Qualcuno mi spinge Qualcuno mi ha spinto Ed era invisibile Ragazzi Sono stato spinto Da qualcuno Che era invisibile Mi so sentito Proprio spinto L'avete visto Rimandate indietro La live Rimandate indietro La live Sono stato spinto Da qualcuno Che era invisibile C'è qualcuno Che sta utilizzando Le hack C'è qualcuno Che sta utilizzando Le hack Secondo livello Secondo livello Ragazzi Tornate indietro Perché Io Mi sono Mi sono sentito Spinto da qualcuno E non c'era nessuno Sì Livello insieme Ci diverteremo A fare esplodere Il mondo Fai Pingu No Forza Ce la puoi fare Buttiamo giù I arancioni Venite qua Venite guys No no Aspetta Aspetta Con calma Fate prendere tutto Sì però Non mi Non mi stream Ok ragazzi Grandissimo Buttati giù No No Pingu Stai soffrendo Tantissimo No ragazzi Devo farli cadere Devo farli cadere In qualche modo Intanto io mi prendo questo Intanto io mi prendo questo Attenzione Attenzione Li vedo Li vedo là Li faccio Provo a farli esplodere Vai Grandissimo Così si fa Grandissimo Pingu No no Con calma Ehi che trick Devi usare tu Cerca di fare il serio Buttalo giù Buttalo giù Butta giù il pinguino Ruba Ruba la bandiera La bandiera è mia Ok Abbiamo conquistato Un sacco di bandiere No 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 Questa bandiera è mia Non ci provare nemmeno Non ci provare nemmeno Non ci provare Ecco Ecco che Mi finisce male Ecco L'avevo detto io Che qua stava finendo Alla grandissima Però siamo 6 da 2 Ehi tu Ma quello è un 6 trick E cosa cerchi di fare là tu Cati No mi fa perdere tempo Così Grande Vale Vale Tu sei che vali Ok Nel frattempo che tu vai a prendere quella Io mi prendo questa Così si ragiona No 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 4 a 6 17 secondi Ecco ragazzi Ma se Magari non ci facciamo esplodere la vicenda Riusciamo a vincere No Invece no E invece no Catturate sta bandiera Ok 3 secondi 3 2 1 Grande Pasqua Il migliore di tutti Sei Pasqua Comunque Questa partita Non c'è stato nessuno Che mi ha spinto Però qualcuno ha usato le hack Quindi no Di nuovo sto livello Quanto è fastidioso Ok proviamo a Vincere Senza utilizzare Pugni Senza utilizzare niente Anche perché Ho capito che Su sto livello Purtroppo il pugno Non riesco a utilizzarlo bene Eh no no Vick No ragazzi C'è Vick Ma Vick Già c'era No Vick è bravo Vick sa fare le cose Vick sa fare le cose No Vick sa fare le cose No Stare vicino a Vick Quello ti abbraccia Ok ragazzi Ragazzi attenti a Vick No 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 Ok No ragazzi Vick è da pugni Vick è da pugni Alla grande Vick è da pugni Alla grande No Ragazzi attenti Questo potrebbe essere Un problema No 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 Ok Allora giochiamocela Con calma Il problema È che Già prevedo Che mi si darà Un pugno No Bella Bella dai Questa è stata bella Fino alla fine Fino alla fine Vick non c'è più Però c'abbiamo Pasqua Forza Pasqua Pasqua Si è tutti noi Pasqua Pasqua ce la puoi fare Pasqua Bravo Bravo No Pasqua No Pasqua Attenzione lo scheletrino verde Contro il pinguino Caracorne Saranno corne Saranno E vince Saranno corne Yeah Caracorne Così si fa È stata bella Questa partita Questa È stata bella Bella Ok Io direi Che Vediamo Vediamo un po' C'è Allora Se mi cantate Se non facciamo L'ultima No non ce ne andiamo Faccio L'ultima partita Tutti insieme Ok E poi ce ne andiamo Ok Tipo Come fanno i DJ Così Se non metti L'ultima Non ce ne andiamo Vediamo 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 Ciao a tutti Ciao Sabrina Ciao Riccardo Ciao Elisabetta Pasqua Nei nostri cuori Ciao Nicolina Ciao Francesco Emanuele Usano le H Perché sono poveri Senza nessuna corona E lo so Se non facciamo l'ultima Non ce ne andiamo Ok Ok Facciamo l'ultima L'ultima Tutti insieme Cerchiamo però Di raggiungere Proprio L'ultimissimo Livello Intanto Ciao Laura Carlisi Ciao Gattino Miau Miau Ciao Manu Ciao Sara VGF Ciao Antonio Melis Ciao Filippo Colonna Dai Vabbè dai Per stavolta Vinci Ti lascio passare Per stavolta Eh Hai lottato Tutto il tempo Ti lascio passare Per stavolta Gli altri Sono tutti nuovi Questi Questi sono nuovi Ok Ci siamo Saluto gli ultimi Tre o quattro Ciao Antonella Ciao Reda Shadow Mi raccomando ragazzi Facciamo questa Se volete Vincere Uno di questi Tre buoni Eh Da 15 Su Google Play Dovete commentare Questa live Questo video Che ovviamente Rimarrà Col vostro Nickname Sotto nei commenti E se volete Far parte Del Del team PNG Potete scrivere Benissimo PNG Nel vostro nome E farete parte Del mio Grandissimo Team Poi ovviamente Se in futuro Aggiungeranno I clan Che sarebbe Un'ottima cosa Perché i provini Hanno senso Se C'è un clan Se c'è un clan Dietro Siccome Stumble Guys Non ha un clan Ok Non ha una modalità Per fare dei club I provini Non hanno Molto senso Ok Però Se volete Far parte Del team PNG E volete Essere dei veri Pinguini Scrivetevi PNG Nel nome Sperando Che un giorno Possono mettere Questi Club Anche se Credo Che li faranno Perché Assomia Molto a Brule Stars Questo gioco Ci siamo Vai Dives Falls Senza cadere Non me ne sto andando Ragazzi Facciamo queste ultime Via Tile force Senza cadere Non è da questa parte Mi hanno dato un pugno Mi hanno dato un pugno Calci pugno ovunque Io rimango in mezzo Oh no 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 Ragazzi Il problema è qua No 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 Ragazzi Ragazzi No Eh vabbè Eh vabbè Eh vabbè Mi hanno dato un calcio Ok Rifacciamo ragazzi Rifacciamo l'ultima Mi prendete proprio di mira Mi prendete proprio di mira Di mira Aspetta no Che dico Aspetta torna indietro No Ok Mo la rifacciamo Sono caduto Perché mi avete dato Un bruttissimo calcio Una scevolata Proprio a me No Ancora Nulla Gruppo Rifacciamolo per bene Questi ultimi match Queste ultime partite Chi c'è C'è Ti piacciono i sassi Anche a me piacciono i sassi A me piacciono i sassi A me piacciono i sassi Oh vinci Vinci se sempre È una cosa incredibile Come fa Non lo so Ha tipo una connessione Tipo bassissima Ok ok Vai pronti Pronti Caricamento Vai Forza tutti Forza tutti Gioca Volevo fare almeno Una gara Fino alla fine Ottima Di nuovo Cioè tu me lo stai facendo apposta Stambol Stambol Tu me lo stai facendo apposta Tu me lo fai apposta Vero No ragazzi Me lo sta facendo Appalesemente apposta No ragazzi Non mi date pugni No ragazzi No ragazzi Non spingetemi No Ma me li do io I pugni Eh ci siamo Ci siamo Ci siamo Non è portato Squalificati Ok grazie Visto Basta non cadere Non ho visto volare molti pugni Eh Ti sempre vinci Ciao Fedepro92 Ogni tanto riesco a salutare Solo che i messaggi sono tantissimi E per la conclusione di questa live Scrivete tutti Nut Nut In chat Scrivete tutti Nut Nut In chat Fatemi vedere che ci siete Che siete vivi Che siete pinguini Forza Sì Nut Nut Pronti Partenza Via Sono partito Sbagliato E perciò devo andare di qua Oh e pingu Mamma mia incredibile C'è C'è veramente Veramente No no Non è proprio addosso a me Proprio addosso No Levati No ragazzi No vabbè Vabbè dai Questa me la guardo fino all'ultimo Purtroppo non mi sono qualificato Vabbè questa me la guardo fino all'ultimo Questa me la guardo fino all'ultimo Vediamo chi vince Dai Mamma mia Come mi prendete di mira Mi volete proprio massacrare con i calci Questo è il secondo calcio No non è il secondo calcio che dicevo Space Race Vediamo questo ultimo bellissimo livello Allora secondo me Attenzione è partito uno Non so chi è partito È Ian No Ian è volato Però si è salvato Ian si è salvato Addirittura Ma c'è un altro pinguino Alessanne Alessanne è velocissima Che sta in avanti Guarda come corre la pinguina Guardala No Ha rallentato Che errore di Alessanne Purtroppo ha perso decimi di secondo Deve saltare immediatamente Alessanne Deve provare a saltare immediatamente anche dall'altra parte E ce la fa Ciao Ian dietro È una lotta tra Alessanne e Ian Parte Alessanne Ian sta dietro Attenzione Parte di nuovo Alessanne Alessanne va Alessanne va Si ritrova proprio là Si ritrova proprio là Ian è a destra Sbagliato Vince Alessanne Grandissima pinguina Ti vorrei tanto nel mio team Nel mio team pinguineschi Comunque siete troppo forti ragazzi Sono una cosa pazzesca Però Se utilizzate calcio e pugni Siamo bravi tutti Vabbè Parte di scherzi Parte di scherzi Ragazzi Io vi ringrazio a tutti Mi raccomando Partecipate tipo In tantissimi A questo A questo regalo Che vi sto facendo Con questi qua E Così Giusto per Sfizio Per chiudere Live Anzi tra l'altro Per avermi fatto compagnia Giusto per chiudere la live Ci facciamo questi Cinque giri Della ruota Normale Non della ruota speciale Perché ho tutte le speciali Quindi non ha senso Io vi ringrazio Intanto saluto Anche live Ciao Joan Vi ringrazio per tutte le donazioni Per tutto il supporto Vi voglio un sacco di bene Noi ci vediamo Con dei prossimi video Ok Non comune Ranger Walker Ragazzi Queste sono proprio Le ultime skin Ma sono tutte uguali Finalmente ho trovato i clown Ciao Meretz Aji Brian Mi pare che si pronunci così Ragazzi Vi voglio un sacco di bene Mi raccomando Partecipate in tantissimi E nulla Io la live di oggi La posso anche chiudere qui È stata divertente Molto divertente